Un girone d'andata pirotecnico. C'erano pure i fuochi d'artificio ieri a Lusetti per sottolineare l'eccezionalità della prima parte di stagione del Castiglione, che chiude il 2019 in zona playoff. Gli Aloisiani hanno battuto 1-0 il Ghedi grazie al sigillo di Maccaviti al 44esimo. La cronaca dell'incontro parte al settimo con il primo squillo del Ghedi. Il tiro di Paghera finisce abbondantemente fuori. All'undicesimo ci prova Sec. Piccinardi para senza patemi. Al trentasettesimo Botticini serve Zenga. La girata di quest'ultimo è preda di Opfl. Al trentanobesimo Bertoli serve Sec che tira. Piccinardi mette in angolo. Il gol che decide l'incontro, dicevamo, arriva al quarantaquattresimo. Bel cross dal fondo di Zambelli, Maccaviti a centroarea inscivolata, deposita in rete. Ripresa. Al quarantasettesimo gran palla di Botticini per Serpelloni, ma il suo diagonale sul secondo palo termina largo. Al cinquantatreesimo si rivede il Ghedi. Girata di Hassan, Piccinardi si rifugia in corner. Ancora Ghedi al settantatreesimo. Ottima chance per Paghera, gran risposta distinto di Piccinardi. All'ottantasettesimo il Castiglione ha la chance di chiuderla. Discesa di Zambelli che serve stavolta a Serpelloni, ma la conclusione di quest'ultimo è da dimenticare. Ultimissima chance per il Ghedi al novantatreesimo. Sola prova a pescare il Giori da lontano, ma Piccinardi mette in angolo. Per il Castiglione dunque tre punti d'oro. Gli aloisiani salgono a quota 25 e restano agganciati alla zona playoff.